Sonia Bruganelli sa sempre come far parlare di sé. Questa volta la sua lingua tagliente c'entra poco, l'autrice e produttrice ha lasciato il segno con un look elegante, raffinato e chic, che ha conquistato davvero tutto. Per l'ottava puntata del grande fratello VIP la moglie di Paolo Bonolis ha indossato un tubino di velluto color vinaccia, che metteva bene in mostra le sue forme generose e senza un'ampia scollatura per evidenziare decoltè e spalle. Sonia Bruganelli ha completato il look con una collana non troppo vistosa mentre ha lasciato i capelli sciolti. Ai piedi scarpe argento casa dei. L'abito è firmato chiarabo. Un brand non nuovo ai telespettatori del grande fratello VIP, in passato ha sfoggiato creazioni simili l'ex opinionista Antonella e Lia, ricordate il vestito verde di velluto che è stato poi scelto anche da Carolyn Smith a ballando con le stile. Il prezzo del tubino di Sonia Bruganelli non è particolarmente eccessivo, costa 570 euro. Sul sito del brand è possibile acquistarlo in tre comoderà. L'abito Silveria, così è stato ribattezzato, è uno dei best seller della collezione autunno-inverno di Chiara Boni la Petitrobe. Seducente, con profondo scollo a V e maxi rouche laterale che delinea in modo sinuoso le. Chiara Boni è una stilista, imprenditrice e scrittrice che da oltre 40 anni si occupa di moda. Il suo nuovo marchio sta spopolando in Italia e all'estero, soprattutto negli non solo Sonia Bruganelli, Antonella e Lia, Carolyn Smith. Gli abiti della Petitrobe sono stati scelti pure da Oprah Winfrey, una delle donne più potenti in America. I capi della Petitrobe sono realizzati in tessuti stretch innovativi, progettati per incontrare le esigenze di una donna dinamica, continuamente in viaggio. Sono ripiegabili in micro buste di tulle, sono facili da lavare e non necessitano dunque di scegliere. Generalmente gli abiti di questo marchio partono da un prezzo base di 500 euro, come appunto nel caso del dress di Sonia Bruganelli, ma dello stesso brand è possibile trovare anche giacche e tailleur.